Sono circondato da gente invisibile Aiuto Ciao ragazzi io sono Falconer e oggi sono qua Con un nuovo scopriamo Per scoprire insieme a voi Players Unknown Battlegrounds Ehm... è un gioco Di cui mi avete parlato in tantissimi È un gioco che ero curiosissimo Di provare, un gioco che alla fine ho ceduto E ho acquistato negli ultimissimi giorni Sono troppo curioso di vedere com'è È un battle royale di quelli Tosti da quello che mi avete detto Per cui vediamo com'è Adesso io sono veramente in condizioni smutandate Per cui non posso fare granché Se non provare una partita Credo No posso comprare Ho dei soldi No non posso Manco i soldi per una maglietta Vabbè E allora aspettate un attimo Io posso scegliere No già è partito C'è un matchmaking talmente rapido Che non ho possibilità di fare nulla Ok sono dentro A un posto Tipo troppo strano Perché siamo tutti Ok devo Devo prenderci decisamente la mano Con questo tipo di atmosfera Io ho i pugni Ho i pugni nelle mani Come diceva la famosa Vabbè Che cosa Si Quindi E' molto bello questo aereo Però Oggett Vado Ah così secco Bene Vabbè Regà Allora Io già mi sto fomentando Ma comunque Allora io voglio un posto Che sia tipo disperso Nel nulla cosmico Per fare gli affaracci miei Quella casetta nel bosco Sembra Sembra un buon punto Io Apro il paracaduto E quando Ah no lo apre da solo Vabbè Aia C'è già gente Niente Devo Viro Viro da un'altra parte Più Più isolato Più isolato Mancano 26 No Ok Ci sono Spero di non morire All'atterraggio Perché sarebbe veramente Molto molto triste Come cosa Ok Sto lentamente calando Tipo Ascensore Oh Ok Ho una cinta Che prima non avevo Pensavo di avere solo le mutande La domanda adesso è Ma io In tutto ciò Che cosa Devo fare So che devo Sopravvivere Quello è L'obiettivo abbastanza chiaro Della Della situazione Ma Siamo Siamo 100 persone È un botto De gente Il classico gioco Che se ha successo È una bomba Se non ha successo Sarà tipo Il posto più desolante Della storia Però giudicale dal fatto che Saper arrivare anche su console Credo che Successo lo avrà Comunque I primi 10 sono andati Io sono ancora vivo È un bel momento Per essere Per essere qui 89 Io vorrei finire Tra i primi 10 E che cosa Procedi all'area marcata Sulla mappa In 5 minuti Io corro Noto che la stamina Non sembrerebbe essere Un problema Allora io Al momento Come armi Ho sempre i pugni Nelle mani Nient'altro Di utile È molto bello Che la stamina Non sia un problema Vabbè Io voglio quella casa lì Siccome tutti andranno Verso il posto Marcato sulla mappa Io mi faccio Gli affaracci miei E vado Volo con questo salto Molto plastico Verso Verso nuovi luoghi Che ovviamente Sono già stati Battuti Ampiamente Ma Mi sa di una versione Molto più Completa E divertente Di The Culling Non so perché Ma A pelle E spero tanto Siamo uno di quei giochi In cui mi chiuderò Qual fatto che ci sia La porta aperta Non mi fa ben sperare Però vediamo E no Non c'è assolutamente Niente che io possa Fare qui dentro Non salto Fai dalle finestre Vabbè Arrivederci Tristissima Sta cosa Ma io per avere un'arma Me la devo portare Da casa Tipo le forchette Quando uno va fuori In campeggio Oppure c'è un posto Dove posso averle Tipo iniziamo tutti A cazzottoni O ci sono ricchi Contro poveri Per cui arriverò Al punto di dire Che schifo i poveri Come spesso Mi succede di dire Quando gioco da solo Visto che non metto mai Una lira Nei giochi Che eventualmente Prevedono Questa possibilità Aiuto Lì vedo Una sorta di centrale Nucleare Alla Springfield Sembra un reato C'è qualcuno Che però C'ha qualcosa In mano La zona rossa È cominciata Ovvero Non lo voglio scoprire È un po' Angosciante Girare in mutande Per un'ambientazione In cui non ho neanche Un bastone Per difendermi E non mi sembra Che ci sia modo Di usare il contesto A proprio vantaggio Allora Non c'è Nulla Posso solo chiudere Le porte Non credo Che una porta In faccia Sia Ma che cosa sono È tipo Silent Hill Vabbè Aiuto Io Altra struttura Vado 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 Sono due Minuti Ma possibile Che ogni cosa È già stata Presa In questo luogo La zona di gioco Si restringerà In due minuti E ho capito Ma io che Vabbè La mia arma segreta Sarà lo sputo Perché deduco Non abbia Granché di altro Da poter sfruttare Comunque adesso Credo che una volta morto Avrò l'opportunità Di capire La Il sistema di progressione Quale sia E come sia strutturato Perché magari Mi danno qualche lira Con cui posso comprare Che ne so Una mazzafionda Un mattarello Per la prossima Gara Non lo so Là intanto Vedo quello che Sembra essere Un cesso pubblico Andiamo a vedere A parte Ma io posso Che posso fare In questo gioco Non posso Intanto vedo Che c'è gente Che è morta Con headshot M416 Tutte cose Che io Non so neanche Se La zona di gioco Si estingerà Fra Oh E' Che cos'è Ho trovato Ho trovato uno zaino Adesso Mutande e zaino Si però Si però No E' Oh Il micro Uzi Senza munizioni 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 Immagino che sia R Per ricaricare Ok Ho qualcosa Il che è già Cosa Cosa buona E giusta Ma che Non ci è passato Nessuno qua Ma che Ahia Qui si No Qui no Ma ve prego Fermi tutti RR Io Io voglio Voglio qualcuno A cui sparare Datemi qualcuno A cui sparare Ve prego Ansia spasmodica In questo momento Che cos'è Un falcetto Io potrei Mettermi Tipo qua Il primo che apre Boom Tipo Nonno Ecco Ho trovato Dei pantaloni Ok Ho Ho gli uzi Che mi sono Stati attaccati Alla scapola Dovrà arrivare Qualcuno Prima o poi Allora La zona rossa Si sta Credo restringendo Forse Mi conviene Andar via Vabbè Vado Spero di non morire Ok Vabbè Credo che Il fucile a pompa Da quella distanza Non serva Una mazza Per cui Vado Vado E sembra Che non sia passato Nessuno da qui Tra l'altro Comunque Scusate Ma una bella Pistola normale Ecco Con questo Restringo la visuale Ok Ma non è che Che cos'era Ehm Si Perché va tutto a fuoco Da ste parti Vabbè 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 Io Io vado Ci sono i bombardamenti Fa tipo paurissima Tutto Porco Porca miseria Porca Mamma Mamma mia Vabbè Io vado a casa Via via Ehm Ok Quindi quando la mappa Diventa rossa Io devo fuggire Perché vuol dire Che bombardano Tanto e male Allora Qua dentro Ne sa che la cosa migliore È prendere il fucile Perché se spunta fuori qualcuno Devo essere un attimino pronto A A reagire Io non vedo gente Però È la cosa Un attimino Più In quanti siamo In quanti siamo Ah 48 Ecco Perché c'è la mia faccia sopra Ehm Dunque Siamo arrivati in 48 Adesso la prossima volta Semmai Se dovesse esserci una prossima volta Sappiate che sposterò la cam Da un'altra parte Purtroppo adesso non posso Perché è impressa la video Una volta che inizio Rimane lì E io non posso più spostarla Allora Detto ciò Io Prenderei la pistola Allora Io Nella strada Così aperta Ho abbastanza paura Di passarci Ma dovrò farlo Aiuto Aiuto Vabbè Adesso se Ma se io mi volessi Tipo buttare a terra Si potrebbe fare? No Devo ancora capire i tasti È drammatica sta cosa Ma come ben sapete Io non sono Proprio Abituatissimo A giocare Con 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 mouse e tastiera Preferisco il pad E non credo che questo sia un gioco compatibile Col pad Visto che ci sono 840.000 cose da fare Il problema è che vorrei buttarmi Per terra E gattonare Fino a un punto sicuro Ma non lo posso fare Qua ci sono strutture Di ogni tipo E genere Vado 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 Qua sicura palla Che trovo qualcuno Vado Ok C'è una maglietta Oh Beh posso mettere una maglietta Buoni tutti Ho sentito spari Ho paurissima C'è un'atmosfera Che crea Un'ansia Che fermate RR Vado 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 Io ho paura Eh che non lo so Via 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 Ok Ne devo andare Qualcuno mi ha sparato Porca miseria Porca Apri sta porta Apri Sto per morire Ma porca Di quella miseria Porca Ma porca Di quella miseria Tra l'altro mi sa che il pad è compatibile Perché ha fatto una vibrata Paurosa Mi è sembrato Il terremoto Ma che ansia Il pad era compatibile Niente sono morto Ho fatto una fatica abnorme Per morire così Ma è amarissimo Sto gioco È veramente amarissimo Ma quindi adesso Li sono in mutande Un'altra volta Ma perché Ah ma posso vestirmi Allora Perché sono entrato In mutande In gioco Allora Se potevo vestirmi Prima Ehm Vabbè A questo punto Penso che un'altra partita Sia d'obbligo Non Non c'ho niente Da me O forse mi sta dando Le cose Che ho Che ho guadagnato Prima Non lo so Ehm Ehm E ma io Non c'ho i soldi Eh infatti Quindi non Non posso fare Alcunché Bene A questo punto Non Play Team Solo duo Squad Ecco Se io provassi Squad Proviamo a fare Squad E provo anche il pad Visto che mi ha fatto Morire fino a un attimo Fa Ok Siamo Siamo sull'aereo Adesso Siamo un sacco Di gente Scalza Ma che ansia È sta cosa Vabbè Ehm Bene Sono dentro E sono fuori Ok La mia squadra È composta Da tre altri Elementi Credo che Sarà abbastanza Complicato Vabbè Ehm Vado Nel dubbio Vado Non so se sto andando Dalla parte giusta Tra l'altro Non è anche il dubbio Che mi possano sentire Gli altri Vorrei andare Dove sta andando L'altro Con il simbolo Della squadra Ok Molto anarchico Sono stato qua Ok Gira 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 Bene Allora Se io atterrassi Tranquillamente Vicino ai miei compagni Sarebbe un gran bel momento Tanto mi sa che due Sono rimasti su Siamo solamente in due Ad essere scesi Bene Ok Adesso che se fa Il mio compagno è tipo Sta Sta C'ha appena avuto un ictus Probabilmente Non si muove Vabbè Vado appresso agli altri Ok Sto trovando un po' di roba Che male non fa Del metto da motociclista Bene Ti piace Eeeh Che altro Uh Medikit Cose varie Cappellino No Voglio Voglio del metto da motociclista Io posso Ok Poi di qua non c'è niente Il bagno è vuoto Esco Arrivederci Ma un'arma seria No E devo girare Col piede di porco Vabbè Io vorrei capire Do stanno tutti però C'è una macchina Posso anche andare in macchina Ah no Mi sembrava troppo Per il momento Niente C'è un altro Un altro Compagno paralizzato Perché siete tutti paralizzati Pronto? No Vabbè Sento Sento i rumori Di un bombardiere Che non promette per niente Bene Vado via Che belli I compagni finti Stanno fingendo Che siano persone reali Ma in realtà Non lo sono affatto Da quello che mi pare Di intuire Vero Nel dubbio Io vado via Nel dubbio Vado Nella chiesa Abbandonata È una chiesa? Ok In chiesa Una pistola c'era Vediamo di farne Buon uso Allora Qualcuno da puntare In lontananza Lo abbiamo No No Stanno arrivando Le bombe qui Via 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 Lontano Che rischio Ok Io vado a casa Del fattore Magari a casa Del fattore C'è qualcosa Ok Veramente Folle Sta cosa Che io C'avevo Tre compagni di squadra Si sono lanciati Ma nessuno È vivo Nessuno è reale Calma Calma Eeeh Tanica De benzina Peffacchè Non lo so Va Fucile Comunizioni Fucile Bagno Voto Cos'è Comunizioni Non c'è nessuno Di reale Intorno a me È Truman Show Mi stanno facendo Credere Che in realtà Ci sia un gioco Ma in realtà Il gioco Sono io Probabilmente Non vedo Cioè Dicono che siamo Eccolo Dove cazzarò La sta il tipo Che mi sta Sparando Non vedo Nessuno Sono circondato Da gente Invisibile Aiuto Chi cazzarò Lei che mi Spara Aiuto Niente Sta finendo Malissimo Niente No Non c'ho L'ultima cosa Tipo Call of Duty Di no Che gli posso Sparare Non mi avrete Io vorrei Capire Chi è che Mi sta a sparare Però Quanto meno Ecco Era là L'ho visto Adesso Ma che Tristezza E Vabbè Ho guadagnato 19 Battle points Considerando che Lo starter kit Costa 700 Al mio ritmo Ci arrivo Fra tre giorni Giocando 24 ore al giorno Più o meno Diciamo che Il primo impatto Con player Unknown Spattergrounds Non è stato Proprio positivissimo Proprio allegrissimo Proprio Incoraggiantissimo Però Non mollo qua Nel senso Continuerò sicuramente A giocarci Però vi lascio Il sondaggio In alto a destra Ovvero Sulla mia faccia In questo momento Fatemi sapere Se vorreste vedere di più Fatemi sapere Se vi basta così Fatemi sapere Qualche dritta Vanda avanti Perché la vedo Veramente tragica E triste E brutta Per cui niente Spero che vi siate divertiti Nonostante Il rendimento Al pari Di quello Di un bambino Di tre anni Che ha appena imparato A camminare Però ce l'ho messa tutta Per cui niente Ragazzi Ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima